Partita che è la finale degli Asini, partenza data regolare, subito un gruppo di maglie verdi dove Scandarone, che produce nei confronti di Don Matteo, che lo segue in seconda posizione e vogliamo il giro al concreto della pista, gli altri in fila indiana ad affrontare il primo passaggio e in frattempo i primi due scappano via con Sansone e Don Matteo a condurre sono ormai in nota a due, l'onda aperta tra Sansone e Don Matteo con gli altri in fila indiana a un vari avventurare il pepe che li separa dagli due di testa che affrontano la piegata per la letta opposta, Sansone che se non staccare nei confronti di Don Matteo comunque rimane a un paio di lunghezze quindi ancora abbastanza vicino Sansone mentre recupera Don Matteo che prova data che arriva, Sansone risponde sempre agli attacchi di Sansone con Francesco Talanas, su Don Matteo con Fabio Solinas e questi due facili davanti a tutti, ancora tutto da decidere fra i due di testa, affrontano la curva conclusiva mentre all'interno Sansone viene superato da Don Matteo, Don Matteo con lo numero 8 e il numero 6, bingo, di Giago, Sansone, Don Matteo e bingo, il quarto classificato e bingo, il quarto classificato Grazie a tutti.